Sblindo Studios presenta Ok, 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 sì, certo, certo, certo Vabbè, sapete, a volte mi chiedono Ma qual è la telefonata del sondaggio in tutti questi anni Che ti è rimasta più in mente, no? E allora me ne vengono a mente tante E molte me le sono completamente sgordate Come mi ha chiesto ultimamente una giornalista Anche oggi leggo appunto sul giornale, sul Tirreno Quell'articolo dedicato a me Che la telefonata più strana, più particolare è quella del fegato E mi viene in mente quella Sabe che magari c'è qualcuno che si masturba Vabbè, è successo più volte Ma quella del fegato una volta sola, no? Eh sì, dissi a quel signore che io ero il suo fegato Lui risponde, c'è anche sul mio primo libro Riportata questa telefonata, no? Eh già, chiaramente Vieni fuori questa cosa del fegato Non so perché Cioè mi piacerebbe rifarlo Ma come faccio a rifarlo? Cioè praticamente io dovrei essere un organo Non proprio il fegato Ma un organo della persona a cui sto telefonando Ma sai che ci provo, no? Sì, magari andiamo su altri organi Sì Buttiamolo un pochino su Sulla pruderie Sulla pruderie La pruderie Prudiamoci Prude? Cioè ti prude, eh? Eh lo so Questo hard Va bene, d'accordo Vediamo un po' che mi risponde Pronto? Eh, pronto signora, buongiorno Senta, io sarei il pene di Bruno C'è mica Bruno per caso? No signora, mi dispiace Non abita più qui Se vuole che sia il numero del cellulare Non siete nemmeno parenti? Sì, ma non sta più qui Se vuole che sia il numero del cellulare No, no, ma allora il numero del cellulare ce l'ho Ah, allora può chiamare direttamente io Pensavo che abitasse ancora lì Perché io sono il suo pene Ho capito Sì, lei chi è? Io sono il pene di Bruno Il pene di Bruno Io qui accanto a me ho anche la sua vagina Signora, se vuole, gliela passo Allora sai che dico? Di andare a morire ammazzata al più presto E chi mi dovrebbe ammazzare, scusi? Ma non ho capito Andare a morire ammazzata al più presto Questa si merita Una vaginata, sì Scusate Ma io, ma io mi domando E Dio Eh, va beh Eh, sì Allora, la sto avvisando Il telefono sotto controllo A più presto le arriverà una denuncia Sono la tua vagina Mi tocchi un po' Mi tocchi un po' col dito Allora, sì Allora, adesso le arriverà A più presto una denuncia a suo numero Toccami un po' col dito A mio nome Vagina Continuiamo a parlare Così mi escono tutte le cifre Parli No, ti escono tutti gli umori Tutte le perdite vaginali È uno schifo Lavami Lavami più spesso, insomma È capito? Continuo a parlare Che arriverà A più presto una denuncia Tutti gli uccelli che passano di qui Mi dicono che è puzzo È puzzo È puzzo Ma perché non mi lavi? Lavami più spesso, no? Perché poi faccio Mi fai fare delle figuracce Mi fai fare Ecco Hai capito? Mi faccio schifo anche a me stessa Oh, come era Piri, 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 piri Mamma mia Era il pene di Bruno Era il pene di Bruno Però, insomma, può capitare anche di essere la pagina di un'altra Qualsiasi E vado, vado Vado altrove Ma sì, altrove Lei aveva il telefono sotto controllo Ma non ci Ma mi faccia il piacere Andiamo, vai Sì, sì, sì Quindi vediamo a chi A chi A chi A chi A chi Eh no, è una degenerazione Quella La trefata del fegato fu bellissima Perché fu Surreale Qui l'abbiamo buttata più sul Eh beh, su quello Che ha più Più presa immediata Sì Ha presa rapida Cioè nel senso che Si può fare subito un discorsino, no? Vero? Sì, vabbè Qui purtroppo però Credo che Anzi, sono sicuro Io sono sicuro che Per ogni goccia Per ogni goccia Che cadrà No, goccia di che però ragazzi? No, vabbè Per il comitato Eh no, no, eh no, eh no Non mi sembra Molto, molto, molto Insomma Corretto, eh Non mi sembra molto corretto Va bene, non importa Vado a farne un altro Eh sì, sì, certo, certo Se una donna Sono una vagina Se un uomo Sono il pene Comunque posso essere sempre Il pene di quell'uomo Ma Come prima Sì, poi Ci sono anche altre cose, no? Eh sì Sì, certo Pronto? Pronto signora, buongiorno Senta, io sono il pene di Luigi Volevo parlare con lui un attimo Perché ho perso un po' i contatti ultimamente Eh, mio padre è al lavoro Ah, il suo padre, eh Lei è la figlia allora? Sì Ah, ho capito Senta, può dirgli che l'ha chiamato L'ha cercato il suo pene? Vabbè Ha capito? Ok, ok Si ricorda? Sì Ecco Dice al suo padre Eh, papà Ti ha cercato il tuo pene Insomma Come mai non hai più rapporti con lui? Come mai insomma non lo usi più? Ecco Va bene Va bene? Ok Ma hai capito quello che ho detto? Sì, ho capito Lei è maggiorenne, no? Sì, sì Ah, sì, sì L'importante è quello Perché sennò poi Eh, certo Eh, quindi Lui Cioè mi usa talmente poco, sa? Mamma mia Eh, prima mi usava molto di più Ora Ora insomma Mi sento inutile Capisce? Ok Ok, dica Il tuo pene si sente inutile Chiamalo Cercalo Prima o poi Trovalo Ok, va bene Va bene? Grazie cara Ciao Molto gentile Ciao Peccato se la mia figliola Se no Va bene, via E quindi andiamo avanti Eh, questa non ha battuto mica Cecilia Non so Non si è capito Se avesse capito Se non avesse capito Forse ha capito Forse non ha capito Ha fatto finta di capire non capendo O Ha fatto finta di non capire capendo Eh? Boh Ok, ok Andiamo avanti Dai, su Eh, sì, eh Eh, sì, 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 sì Eh, questo però era un pene piuttosto grosso Sono il pene di Eh, ora vediamo un po' Sono il pene Non è più piccolo Pronto? Eh, sì, pronto signora, buongiorno Senta Io sono il pene di Dino Come? Sono il pene di Dino Non capisco Sono il penino di Dino, insomma, capisce? Sono il pene di Dino Senta, io ho 80 anni Ho 80 anni Ma Dino? Dino, Dino, Dino? Dino? Dino, 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 Dino No No No, va bene Arrivederci Buongiorno Grazie Prego, prego Vale, vale Non ci siamo capiti veramente Eh, quindi Eh, ti leminans Ti leminans Perché, sapete, che tristezza Quando mi dicono Ho 80 anni Io sono vecchio Non sopporto Si, si squalificano Si, si mettono fuori dal gioco Dalla vita Dal consenso umano Perché? Mi dà fastidio Che ci posso fare Ho 80 anni Eh, io spero Magari di arrivarci Sai, insomma, più o meno Si pensa sempre Ma io non dirò mai Ho 80 anni In quel senso lì Come dire Non capisco nulla Non sa Eh, perché se non capirò nulla Non capirò nulla Allora non durò nemmeno 80 anni E dirò Eh, pronto Eh, pronto, buongiorno Eh, sono il penne di Pietro Come? Sono il penne di Pietro Mi può passare Pietro per favore Perché tanto che lui non mi cerca più Non ho capito chi parla Il penne di Pietro Lei chi è? La moglie? Sì, sì, ma La moglie di Pietro Senta Mi dica la verità Quanto è che anche io e lei non ci vediamo? Guardi, io non ho capito chi è lei Sono il penne di Pietro Eh, guardi No, no, no Signora, ma c'è Pietro? No, non c'è Mio marito Mio marito è morto Veramente Mi sembrava di essere un pochino Insomma, sfatto Beh, signora Allora Sarà per un'altra esistenza Buongiorno Ma Mi sembrava di essere un pochino messo male Eh, via Vai via Eh sì C'è tutti i bacchi Vabbè, lasciamo per Andiamo avanti Ma che lo so io Ora anche Pene morto Va bene, d'accordo Pietro non c'è più Andiamo da qualcuno Che speriamo ci sia Ancora Eh sì Insomma Per lui Ma anche per il sondazzo Ve lo voglio dire Certo, certo, certo Beh, speriamolo Dunque Beh Il pene di Pietro Questo è invece quello di Francesco Pronto? Pronto Signora Buongiorno Buongiorno Senda Io sono il pene di Francesco Quale Francesco? Eh, quale Francesco Eh, eh beh Quello che mi chiedo anch'io Ma questo Francesco Non si fa più vivo Mi lascia sempre qui da solo Io avrei bisogno di entrare Dentro a qualcosa Ma invece verso Eh? Nel senso che è morto Vero, signora? Eh? Nel senso che è morto Vero, Francesco? È morto È morto? No Che notizia, signora Davvero? È morto? No, no No, è appunto Una voce davvero Ma signora Lei è la moglie di Francesco Sì, sì, sì Ah, ho capito Perché mi dice che è morto? Scusi Lei ha detto Oh, è morto È morto No, chiedevo Insomma, perché lei aveva quella voce così, signora Mi sembrava Cioè, perché Vede, anche No, è vivo Però Per quanto mi riguarda È come se fosse morto, signora Io non vengo più utilizzato Capisce? No, è sì Pelle di daino Sì, sì Come si usa a dire Allora Ma c'è Francesco? Adesso sta fuori casa Ah, sta fuori casa Sì Senta, io Le posso lasciare detto qualcosa, signora? Sì, sì, sì Io sono il suo pene Ha capito? Sì Ecco Siccome non mi usa più Non mi dà più Cioè, al massimo Una sgrullatina così Dopo, insomma La minzione Dopo la minzione Mi sgrulla dopo la minzione Vero, signora? Al massimo E non mi usa più Senta, signora Io avrei tanto bisogno Insomma Di tornare quello di una volta Perché io avrei anche Insomma Dei momenti di vitalità Ma lui Insomma Signora Lei è la moglie Senti, ma lei è sbagliato Si dia da fare un po' anche lei Perché anche lei ha una parte importante In questo Insomma Cerchi di Insomma Venga a trovarmi più spesso Venga Insomma Mi palpi un po', signora Mi palpi Ma lei ha sbagliato un numero Ma no, signora Ma che numero No, Francesco Io sono il suo pene Ha capito? Il suo pene Ma ha capito o no? No, non lo so Sacco se è un pene Il suo bene Non lo so No, no, non bene Signora Oddio Il pene fa anche bene Certe volte Ma Vede, signora Lei Mi ha preso tante volte Quante volte mi ha preso in mano Oh, mamma mia E dappertutto Signora Perché da un pezzo a questa parte Non mi prende più, signora Anche lei Benedetta donna Ma io Io non lo riconosco proprio Non si ricorda Quando mi dava tutti quei baci Eh, profondi No, no, non mi ricordo Signora Ma non si ricorda Io sono il pene Il pene Il pene di suo marito Francesco Sono il suo pene Non si ricorda Quante volte Insomma Quando eravamo Eravate più giovani Eh? Eh E poi improvvisamente SSPP Servo solo per pisciare Eh, non va mica bene, signora Eh? Allora io chiudo E le piaceva anche Non mi interessa a me Non mi interessa a me Queste parole sue Non mi interessa a me Me ne ero accorto che non le interessava, signora Me ne sono accorto da tempo Arrivederla, arrivederla Ma incrementi di interesse, signora Io qui sono inattivo Mi sento inutile Mi sento trascurato E lei cerchi bene il numero E lei cerchi bene il numero che va in cerco Mi sento solo, signora Non è il suo numero Mi sento solo Perché? Perché queste donne Sono disinteressate? Non fanno più nulla O mariti E i poveri peni Eh? Ciondolano Tristi Tristi e solitari Vado un altro Oddio Oddio Mi sembrava Queste avesse capito Comunque La situation Solamente non le interessava Proprio niente No? Sì, eh Figurati Eh? Eh? Caggia fa Caggia fa Caggia fa Siamo nel sud Siamo nel sud Nel sud dell'Italia Italia Italia Il pene sedesto Ma quando mai? Eh no Eh no No Questo mi buca il pene Eh no Andiamo da un altro Vediamo un po' Sì sì Siamo ancora Siamo ancora in dembo Eh Abbiamo ancora possibilità di Eh Spenicchiare di qua e di là Eh sì Vai 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 così Vai così Vai così Che ci vuoi fare? Eh Stai a sapere A fare Pronto? Eh Signora Signora Buongiorno Mi sente? Sono il suo buco del culo Mi sente signora? Pronto? Questa non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Giuro Eh questo Cos'era? Che si stappa ogni tanto Non so Ma richiamiamola questa qua No rido perché è veramente come se l'avessi detto un'altra Io non volevo dirlo Volevo dire il pene E poi è venuto fuori Pronto? Signora? Signora buongiorno Mi sente? Sì che cosa vuole? Sono il suo buco del culo Ma via Ma che volgao Ma che volgao I taveo Oddio Torniamo al pene Che è meglio Torniamo al pene Ma io a volte mi chiedo Ma io mi chiedo Ma vero? E poi Dopo essermelo chiesto Dico ma perché me lo sono chiesto? Ecco Va bene Vieni Su forse Su vieni Allora chi sono? Il pene? Buco del culo Il Non c'è nessuno Eh Niente eh Niente 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 No ho capito Non c'è nessuno Dai abbiamo solamente Meno di tre minuti adesso E quindi bisogna Darsi da fare Per cercare Di parlare Con persone Che tu c'è a fare? Sì Sì Vai vai Sì 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 Ecco Su dai Per venino Dai Forse No qui Lo vedi? Lo vedi? Me lo fanno apposta Insomma Eh Voglio Concludere con la voce umana Come spesso Come voglio fare Qui però Sai Sono a tempo preciso E non posso Abbiamo Telecom Italia Ah Sì 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 Complimenti Eh Va Ci mancavi anche te De Bimba Eh Ecco 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 Ora abbiamo Meno di due minuti Ecco E allora E allora E allora Su forza Risponda a qualcuno No E stavo tutti io E allora Pronto 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 E' pronto signora Buongiorno Senta Io sono la palla sinistra Di Giovanni Chi? Sono la palla sinistra Di Giovanni Lo sto capendo Signora Chi è? Sono la palla Sinistra Di Giovanni E io Sono Incazzata nera Perché Perché la palla destra Mi rompe le palle E esatto Come la palla Mi rompe Come la palla La palla destra Mi rompe le palle Ma Io 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 Mi domando E Dio Chiamiamola Abbiamo Ora abbiamo Un minuto Sì E insomma Mi non va bene Pronto E Giovanni Giovanni Chi? Eh no Giovanni tu Io sono la tua palla sinistra La salto la mamma La tua palla destra Mi na fastidio Mi rompe i coglioni Ecco Ah Fa culo a mamma E io Lo richiamo Ma io Io mi domando E dico Ma che gente C'è di mondo Non parla nemmeno Con le proprie palle Eh Fa culo E da puttana Le mamma La chieda Le corna E soccola E Ti ho passato Il buco del culo Non hanno riattaccato Sentite Sentiamo rumori di fondo Rumori del sud Ma questi rumori ormai Ci dicono Che la prima parte del sondazio è terminata Dopo Dopo Ancora 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 Maraviglioso Voglio essere offeso Sì 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 Richiamo subito Com'era la palla L'abbiamo passato Il buco No Eh Pro 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 Che sarei Vediamo un po' se rispondono No Vorrei intapolare un po' Una Una discussione Eh sì Vedi vedi Pronto Che c'hai con mamma Che c'hai da dire tu Se sei un uomo Ma sei un uomo O non sei un uomo Sei un essere civile Tu riattacchi Tu riattacchi Tu riattacchi Perché mamme te Mamme te Eh La tua La tua La tua La fangula le corne La tiene E scappi Scappa coniglio Hai capito Riattacca coniglio Scappa Scappa coniglio Scappa Vigliacco Dove noi che ci incontriamo Dai Vigliacco Tu riattacchi È troppo facile riattaccare Scappa Vigliacco Scappa Cotardo Vigliacco Ma dove vuoi che ci incontriamo Dimmi Dove vuoi tu Io e te da soli A mani nude Capito A mani nude Voglio vedere A tu e te incontri Allora come te vuoi tu Come te vuoi tu Come te vuoi tu Io non so Tu sei un romano pieno di corne Io sono romano pieno di corne Come era sempre tu E ti incorno E ti incorno tutto Hai capito Infame Infame Cotardo C'è un cornudo È figlio di puttana Cotardo Cotardo Vigliacco Che scappi E' un incontriamento Quando vuoi Domani Quando vuoi Non lo diamo a dire Vieni sulla strada di copertino Che ci cuociamo Vieni La strada di copertino Non d'accordo Cotardo Vieni Vieni che per telefono Hai paura di parlare Io ne ho paura Ma sta in culo a mamma Hai visto E' scappato Cotardo Vigliacco Devo che va richiamato Subito Adesso si va sulla strada di copertino E come Dov'è Un bu Ecco L'ho richiamato Perché è troppo simpatico Di una simpatia travolgente Devo dire Mi travolge Mi travolge Eh se mi travolge Adesso lo ha travolto Dalla simpatia Che ci posso fare Non posso farci niente Devo richiamare E parlare Con una persona così simpatica Vedi Cotardo Vedi Cotardo Vedi Vedi Vigliacco Vedi Vigliacco Vedi Vedi Però l'ho fatto stare al telefono Per un bel po' Dicendogli Cotardo E Vigliacco Riattacca Riattacca E chiaramente non riattaccava Perché se no Passava da Cotardo E da Vigliacco Però alla fine l'ha fatto Eh beh Insomma Ancuna mamma Credo che non ci sia più Dialogo fra noi No 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 Non c'è più dialogo Non abbiamo più niente da dirci No no Assolutamente Basta così Per carità di Dio Cotardo Vedi Vigliacco Vigliaccone Vigliaccone Andiamo avanti Su 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 Quindi siamo a ruota libera Quindi Ah quindi Ah sì Ah sì Eh beh Insomma Cioè Era venuta però dire Sono il tuo buco Sono la palla a sinistra Sono il pene di Sono il pene di Eh ma È carino È divertente Vero Beh ma io vado avanti Così ora Vediamo però se qualcuno risponde Eh o se è codardo Anche questo Niente Vedo niente Vedo niente Per il momento Qui Nessuno 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 Andiamo avanti Andiamo avanti E troviamo qualcuno Magari qui Al numero che sto adesso Formando Ecco Vai Vai così Vai così Che una figata Com'era? Mamma mia Per carità di Dio Su Pronto? Sì pronto? Chi sei? Chi sei tu? Chiara Ah Chiara Carina Senti Chiara Io volevo proprio parlare con te Posso dirti una cosa? Sì Sei bellissima Grazie Sei bellissima Sei veramente una bella ragazza Mi fa tanto piacere parlare con te Perché mi sono preso Insomma una cotta per te Per me? Sei bellissima Ti passo la mamma? Sì Passami la mamma Mamma Chi vuole? Questa è troppo vicina Pronto? Sì signora Buongiorno Sì E la mamma di Chiara Sei? Sei la mamma di Chiara? Sì Sì È bellissima Chiara È bellissima Io sono innamorato di Chiara È bellissima È bellissima E mi piace tanto Sì Chi è lei? Eh? Chi è? Ma quanti anni ha Chiara? Chiara dieci Dieci Mamma mia Io sono nove Di cervello Di cervello No No veramente scherzavo No scherzavo Sì lo so che stai scherzando Stavo scherzando naturalmente Come stai? Bene Eh beh insomma Facevo come quella pubblicità che fanno ora in televisione Sei bellissima Sei bellissima dice Eh eh Hai sentito? Scherzavo Senti Allora Sì Come va? Bene Maurizio? Maurizio sta lavorando Eh sta lavorando Sempre a lavorare Sempre a lavorare Sempre a lavorare Tu invece? Beh lavori anche tu No io sto a casa Adesso siamo tornati da mare Hai ragione ma stare a casa lavora anche quello Sì e come? Guarda che la casalinga lavora più di tanti altri E infatti È vero? È vero Non solo la casalinga lavora di giorno o di sera E poi arriva il marito e dice Su ecco ora voglio anche godere Eh? Eh penso stare giusto un po' i bambini al mare Viste che hanno finito la scuola Ah sì eh? Eh Hai portato i bambini al mare? Sì sto portando i bambini al mare Stai portando i bambini al mare? Sì Ma proprio in questo momento? No no adesso siamo arrivati Ah ecco perché a quest'ora non so No mamma mia no 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 Noi andiamo presto So alle 12 e mezzo So alle 12 e mezzo partiamo Eh brava 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 Bella vita però eh Sì Bella vita Mare sole Sì poi arrivi a casa Cucina Lava Stira Stira Spazza Scopa Scopa Ma mi fai che scopare giusto? Ma senti ma che è lei che io non ci sto a conoscere Cioè effettivamente ma tu chi sei che io non ti riconosco Ma io non ti riconosco ma chi sei tu? Sono io Eh chi sei? Eh appunto tu non mi riconosci ma anch'io io credevo di parlare con una persona ma forse non sei tu tu io forse non sono io forse non siamo noi ma il destino ci ha fatti incontrare Ecco Una donna meravigliosa una mamma ideale una moglie stupenda una donna che tutti vorrebbero avere ma che uno solo Maurizio ha quel culo rotto no nel senso di fortunato uomo fortunato ad avere una donna così simpatica Allegra sorridente malgrado tutto e quando lui vuole lo accontenta anche Nei desideri sessuali ma insomma ma perché ti sei sposata con lui? Dovrei sposarti con me Eh colleghi Io metto molti soldi ho un panfilo ma hai mai visto passare dal mare quella barca bianca lunga? No No forse ero un po' a largo sì Eh sì forse siamo dall'altra parte Ma siamo forse dall'altra parte non del mondo ma delle classi sociali e io guarda io sono un raffinato Sei amico di Maurizio? Ma sì amico di Maurizio perché Maurizio una volta è stato sulla mia barca Eh gli ho detto ma Ah forse con Matteo? Sì con Matteo sì bravo Ah perché mi ricordo una volta che disse sto andando al mare con la barca e con Matteo Eh bravo E allora io l'ho presa in una parte e gli dissi Maurizio tu hai una moglie stupenda Io malgrado tutti i miei soldi le mie cose che ho non sono mai riuscito a trovare una donna A trovarne una Sì no di donne ne trovo tante se voglio Sì però magari forse una giusta Brava 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 E quella si chiesa che così diciamo noi certe volte qui diciamo magari no Sì Una può essere bella stupenda magari no Però poi dopo dico infatti poi la stanchi Magari invece una che non bere tanta bella ma è accogliente è brava Certo ma poi ma poi è qualcosa che non si Cioè io poi essendo in una situazione di benessere ho sempre paura che le donne che mi si accostano lo facciano per interesse Lo facciano per i soldi dici Per interesse Per interesse E invece io vorrei una donna semplice Modesta Ma non importa la bellezza Guarda che quello certe volte guardano così dico magari si fanno dei ragionamenti no Magari dico guarda io non sarò bella Ecco Però magari come dici no Però tieni il carattere che ti fa sembrare più bella Magari ma lo stesso per l'uomo magari per chiunque Non è che dici a me tengo un uomo che per me lo voglio bellissimo Però uno che non è tanto bello Però nello stesso tempo viene di parattere Perché se ti attira e ti affaccia per chi è bello lo stesso Esatto 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 Io sono completamente d'accordo perché la bellezza passa Che quello infatti che quello diciamo noi Guarda se può mettere a cacci in un spiro con qualsiasi È ripartita è ripartita Magari lo spiro hai Però è passato Magari se invece sai con un avagnone o con una cristiana Che magari sai no Quindi è pure cose Magari sai E' proprio così Parole sante Quello che io sento E' quello che penso anch'io E' vero è così No guarda così è vero Pure io penso la stessa cosa Sentimi Ma Maurizio volevi? Ma c'è Maurizio? Maurizio sta lavorando Arriva alle due e mezzo Posso parlare? Quello che ho detto a Maurizio quella volta Voglio ripeterlo a te se mi permetti Io ho detto a Maurizio guarda Maurizio tu sei un uomo fortunato Ti sei voluto una donna per questi anni Per tanti anni Per tutti questi anni Senti io ti faccio diventare ricco Ti do tutto quello che vuoi Però tu mi devi dare quella donna No Prendo anche i figli Prendo anche i figli Prendo tutto Lui sai cosa mi ha risposto? Ci penserò Ha risposto ci penserò Quando viene tocca di la faccia questa proposta E come? Quando viene Ve la devo fare questa proposta Dico lo sai Maurizio Mi ha telefonato una persona Sì Non sapendo chi è E mi ha detto Che lascio i bambini E che me ne vado Dico tu lo conosci però La direi proprio ce mi dice Così 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 li devo dire Questa devo vedere proprio cosa mi dice Ma scusa Posso chiedere a te Se lui dicesse Va bene Sono d'accordo E cedo mia moglie Tu ti faresti cedere a me? Guarda ti farei vivere da regina I tuoi figli avrebbero tutto il meglio Le scuole più importanti Viaggi all'estero Conoscere e conoscenza diventeranno grandiosi Tu sarai una donna Una donna Una imperatrice Di un impero economico E anche devo dire sentimentale Ti darò tutto quello che vuoi Ascolta Io devo andare Che c'è il piccolino che sta piangendo Beh sì sì è certo E vuoi che parte Ti serve Maurizio Se vuoi telefonare Lui per essere due in mezzo arriva Quando viene Maurizio Diglielo però Questo discorso Va bene Che lui si decida Io voglio che lui dica sì Va bene Ha detto ci penserò Che si decida Ti do mia moglie Io ti do tutto Io lo faccio ricco lui Magari si rifà una vita No? Lo mando in Argentina Da qualche parte E così io e te Vivremo felici e contenti E tu ricomincerai una vita Sei una donna stupenda Cosa c'entra la bellezza Cosa importa Se hai le ciocce Ti sentiremo e ci vedremo presto Va bene Ciao Ciao Arrivederci Hai sentito questa risposta All'amore Come l'ha detto Peccato fosse brutto Come la merda Però La signora era giusta In effetti Per essere pronta Per essere portata via il marito Andiamo avanti Su E così via Sì 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 Non si può avere tutto Nella vita Andiamo 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 Ci penserò Ho fatto un'altra telefona Va bene Va bene Però Sembra Quasi Che Quasi No No Niente 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 Da fare Niente Da fare Ecco Sì Ecco fatto Ed è proprio così Ugo 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 Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. C'è Ugo, vorrei parlare con Ugo per favore. Pronto? Signora, vorrei parlare con il signor Ugo. Ma non c'è signora, lei chi è? Guardi, io sono la sua, come si può dire, la sua troietta preferita. Non c'è mia marito. Ho capito, senta, gli può dire che ha telefonato la sua troietta preferita? Ma no, no, il telefono non ci sente bene, non sento io. No, allora, sono la sua troietta preferita. Troietta preferita? Brava, sono la troietta preferita di suo marito signora. Ah, me? No, me, lui. Mi conosci bene allora? Sì, cara, lui conosce molto bene me, perché io sono la sua troietta preferita. Preferita sei? Sì, la preferita, perché lui preferisce me e tutte le altre. Ah, brava, brava, devi diversi bene allora. Quando c'è da scegliere, sceglie sempre me per prima. Ah, brava. Poi gli altri vengono dopo. Brava. Digglielo allora, sono la sua troietta preferita. Troietta preferita, va bene, ciao. Buongiorno. Poverina. Sa troietta preferita. Meno male alla fine l'ha capita, eh. Oh, insomma, diciamo le cose me le stanno, eh. Quell'uomo è un gran puttaniere. È un gran puttaniere. Eh? Che dà? Passano totti di fin. Ormai lo sputo di totti lo fa più... Non sa più di noi, non se ne parla più, eh. Sono quelle cose, no, che vanno e vengono. Vero? Vediamo adesso. Dai, su. Avanti. Ah, questo non c'è. Ah, sì, c'è. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Il signore Ettore sarebbe suo marito, immagino, no? Ah, sì, 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 sì. Non è mica in casa per caso, casa, 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 casa. Sette anni che mio marito non esiste più. Non esiste più. Questa parola è brutta, sa, non esiste più. Eh, lo so. Perché anche quando uno è defunto e se n'è andato, in qualche modo continua a esistere dentro di noi. Dentro di noi esiste, certo. E allora è brutto dire non esiste più. Non è più sulla terra. Non è più sulla terra. Ma è dentro i nostri cuori. Perché noi lo ricordiamo come una persona retta, una persona onesta, che ha fatto la sua vita, ha sposato la sua donna, non l'ha mai tradita. Certo. O no? No, no. No. Dice il vero. Dico il vero. Appunto, quindi signora, io le voglio dire, non dica mai, mio marito non esiste più. Perché suo marito esiste ancora, va bene? Va bene. Mi raccomando, eh? D'accordo. Buongiorno. Buongiorno. Eh, beh, scusate, ma non potevo sentire, non esiste più. Ma poi non esiste più. Esiste, come una persona morta, una persona cara. Esiste, deve esistere ancora. Esiste dentro di noi. E guai, se tu dici non esiste più. Perché allora non esisti più nemmeno tu. Amici, vi serve il G? Ritenete utile coinvolgerlo in attività a cui possa dare il suo apporto concreto per spettacoli pubblici e privati, interventi mediatici o sociali, iniziative artistiche, pubblicitarie e culturali, collaborazione a qualsiasi livello, progetti, idee, stampa, tv, chiamatelo, chiamatemi, al numero 333-1805-252. Ogni proposta non indecente sarà presa in serie a considerazione. Ah, risponderò solo ai numeri visibili. Quindi, astenessi, rompipalle. Se non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo. Sto che mi soldazzo, non mi rompete.